Diventare noi ostie viventi. Figlia mia, anche tu puoi formare delle ostie e consacrarle. In queste ostie viventi troverò il compenso della solitudine, del digiuno e di ciò che soffro nei tabernacoli. Da Libro di Cielo, della piccola figlia della Divina Volontà, Luisa Piccarreta, 17 dicembre 1914. Continuando il mio solito stato e stando molto afflitta per le privazioni di Gesù, dopo molti stenti è venuto facendosi vedere in tutto il mio povero essere e mi pareva come se io fossi la veste di Gesù. Ma egli, rompendo il silenzio, mi ha detto Figlia mia, anche tu puoi formare delle ostie e misticamente consacrarle. Vedi la veste che mi copre nel sacramento? Sono gli accidenti del pane con cui viene formata l'ostia. La vita che esiste in quest'ostia è il mio corpo, il mio sangue e la mia divinità. La mia suprema volontà è l'atto che contiene questa vita. E questa volontà svolge l'amore, la riparazione, l'immolazione e tutto il resto che faccio nel sacramento, che mai si sposta un punto dal mio volere. Non c'è cosa che esca da me, nella quale il mio volere non vada davanti, ed ecco come anche tu puoi formare l'ostia. L'ostia è immateriale e del tutto umana. Anche tu hai un corpo materiale ed una volontà umana. Questo tuo corpo e questa tua volontà, se li manterrai puri, retti, lontano da qualunque ombra di peccato, sono gli accidenti, i veli per potermi consacrare e vivere nascosto in te. Ma non basta. Ciò sarebbe come l'ostia senza la consacrazione. Ci vuole la mia vita. La mia vita è composta di santità, di amore, di sapienza, di potenza, eccetera. Ma il motore di tutto è la mia volontà. Quindi, dopo che hai preparato l'ostia, devi far morire la tua volontà in essa. La devi cuocere ben bene per fare che più non rinasca e devi far sottentrare in tutto il tuo essere la mia volontà. e questa che contiene tutta la mia vita formerà la vera e perfetta consacrazione sicché non avrà più vita il pensiero umano, ma il pensiero del mio volere ed esso consacrerà la mia sapienza nella tua mente. non più vita l'umano, la debolezza, l'incostanza perché la mia volontà formerà la consacrazione della vita divina della fortezza, della fermezza e di tutto ciò che io sono Onde, ogni qualvolta farai scorrere la tua volontà nella mia, i tuoi desideri e tutto ciò che sei e che potrai fare, io rinnoverò la consacrazione e come in ostia vivente, non morta, quali sono le ostie senza di me, io continuerò la mia vita in te. Ma non è tutto, nelle ostie consacrate, nell'epissidi, nei tabernacoli, tutto è morto, muto, non vi è sensibilmente un palpito, uno slancio d'amore che possa rispondere a tanto mio amore. Se non fosse che io aspettassi i cuori per darmi a loro sarei ben infelice e resterei defraudato nel mio amore e la mia vita sacramentale sarebbe senza scopo e se ciò tollero nei tabernacoli non lo tollero nelle ostie viventi. Quindi io voglio essere nutrito col mio stesso cibo, cioè l'anima farà sua la mia volontà, il mio amore, le mie preghiere, le riparazioni, i sacrifici e li darà a me come cose sue ed io mi nutrirò, si unirà con me, tenderà l'orecchio per sentire ciò che sto facendo, per farlo insieme con me. Man mano che replicherà i miei stessi atti mi darà il suo cibo, ed io ne sarò felice. Solo in queste ostie viventi troverò il compenso della solitudine, del digiuno e di ciò che soffro nei tabernacoli. Ciao! Ciao! Grazie per la visione!